Dalle associazioni alle parrocchie, dai gruppi sportivi alle proloco, passando per aziende e ordini professionali. Tutti hanno voluto partecipare alla lotta al coronavirus. In poco più di un mese, infatti, le donazioni da parte di tutto il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena all'azienda Ausle Toscana Sud-Est sono state importanti. Oltre 920 transazioni in denaro per un valore di quasi 750 mila euro. Questo è quanto raccolto fino ad oggi, senza dimenticare poi chi ha voluto regalare attrezzature, protezioni, uova di Pasqua e quant'altro possa essere utile ad aglietare gli operatori sanitari e ospedalieri che quotidianamente sono schierati in prima linea. Un fiume in piena di solidarietà che sostiene e incoraggia. E poi sono tanti, tra associazioni e cittadini, che continuano a contribuire donando strumentazione e materiale sanitario. Solo questa settimana i presidi dell'Aretino sono state donate 400 mascherine FFP3 e alcune strumentazioni, tra cui una videocamera e un interfono.